Sono stato contento di rivedere i suoi presidenti tra noi perché non sei mesi, sette mesi non era potuto venire, non era potuto essere qui con noi vicino alla sua squadra e sappiamo quando lui ci tenga ai ragazzi, alla squadra, alla società, alle giovani e quindi vi vediamo qui è stato un grande piacere. Nello stesso tempo mi ha lanciato la domanda, ora il gruppo 95-98% è questo, sicuramente magari andremo con questi ragazzi ad affrontare il campionato. Poi ho grande fiducia del lavoro delle parole che ha detto già il presidente, il direttore, il barone del fratello, che se dovesse capitare qualche situazione interessante, sono convinto insomma che la Fiorentina magari riuscirà anche a poter dire la sua, però è comprenesso che ci sia una situazione interessante che poi suonano anche questi. Però le idee sono chiare, è tutto quello che si può fare, adesso il gruppo può partire dal campionato e fare dal campionato per fare la sua assunzione al campionato. Poi nei prossimi giorni si verificherà se eventualmente potrà arrivare qualcosina per poter dire, diciamo, più per le fine, 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 più per il discorso, però, più per la fiducia del lavoro del presidente, del direttore, sono alcune persone che manipuleranno al meglio tutte le situazioni per vedere cosa succede. Buongiorno, io vi ho curiosità.